Musica Cari amici di Angoli, ben ritrovati in questo martedì 13 ottobre, qualche minuto prima delle 19, è davvero il momento per stare insieme ad Angoli, ma è sempre il momento invece di continuare a scrivere alla nostra mail, che vi ricordo, angolichiocciola.it, la prima ospite di questa puntata, un ospite che ci racconterà davvero di qualche cosa di davvero significativo, e allora ve la presento subito, è collegata con noi Simona Bennardo. Ciao Simona, ben arrivata ad Angoli. Ciao Dolores, grazie mille, buonasera a tutti. Allora, tu sei psicologa, questa sera ci racconti anche il tuo lato da scrittrice, presenti un libro, un libro che sicuramente tocca delle corde molto delicate. Vuoi introdurlo tu Simona? Molto volentieri. Allora, intanto vi mostro la copertina. Eccola. Eccola qua. Il libro si intitola La corsia dei veicoli lenti, siamo nel mese rosa, al mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e direi che questo è l'argomento del libro, sicuramente. L'argomento del libro, però, anche perché ti riguarda personalmente, è così? Ahimè sì, nel senso che io mi sono sempre vissuta come una candidata alla salute, e invece sono inciampata in un tumore al seno, e quindi mi sono dovuta rimboccare le maniche e affrontare a testa bassa, diciamo, questa disavventura-avventura. Disavventura ma anche avventura, dici. Quindi questo binomio che ovviamente vede le due facce della stessa moneta, quale delle due ha prevalso nel tuo cammino e nella tua esperienza? Allora, all'inizio sicuramente l'ho vissuta come una disavventura, è stata proprio una doccia fredda, quindi una volta capito un po' come fare, come reagire, sicuramente poi mi viene da dire che a noi donne il coraggio non manca, la grinta, la forza di fare tante cose, anche questo. Ho avuto dei validi, validissimi compagni, sono stata fortunata, ho trovato dei medici molto bravi, competenti, quindi sono stata veramente seguita e accompagnata in tutto l'iter in un modo che definirei veramente perfetto. Bene Simona, torniamo al libro e al titolo del libro. Com'è nato questo titolo? È nato perché da brava candidata alla salute io ero sempre una di quelle che correva ovunque, corri di qui, corri di lì, corri in studio, corri a fare la spesa, corri a casa, corri dal veterinario perché ho due gatti. E ad un certo punto invece la vita ti mette di fronte all'imprevisto e quindi devi assolutamente essere capace di rallentare, rivoluzionare le tue priorità perché da un certo momento della tua vita in avanti la priorità è sopravvivere. Quindi se devi andarti a operare, devi stare ferma un mese, ti vai a operare, stai ferma un mese, il lavoro te lo organizzi, la casa si organizza, i familiari si preparano e il compagno ti aiuta. Quindi insomma bisogna anche avere un po' di collaborazione da parte di tutti coloro che ci stanno intorno. Assolutamente quella è fondamentale, dalla rete familiare alla rete amicale, assolutamente questo è fondamentale. Simona senti, io voglio un po' approfittare di te se me lo permetti, visto che siamo proprio nel pieno a metà più o meno del mese di ottobre che però io voglio ricordare non deve essere l'unico mese nel quale si parla di prevenzione e si fa prevenzione perché bisogna farla sempre. E proprio a tal proposito, voglio chiedere a te, per questo ti ho detto, approfitto un po' della tua presenza, ma tu come ti sei accorta di avere un tumore al seno? Ecco, io ero proprio una di quelle che la prevenzione non la faceva, per questo adesso pongo tanto l'accento sulla prevenzione, però diciamo che avendo un buon rapporto con me stessa, mi sono accorta di un cambiamento nel mio corpo ed era un cambiamento visivo. Questo mi ha insospettito, cioè il mio seno stava cambiando forma, questo mi ha insospettito, sono andata a fare un controllo, dal controllo poi sono emerse tutti quegli elementi che mi hanno poi consentito di avere la diagnosi, di operarmi e di affrontare la malattia per tempo, diciamo così. Il tuo primo pensiero, quando appunto hai notato questo cambiamento del tuo seno, qual è stato? Ma all'inizio dicevo, ma che cosa strana, starò invecchiando, succedono cose strane nel corpo delle donne, quando passano gli anni non diciamo quanti, quindi all'inizio le ho pensate un po' tutte, poi però insomma uno era rotondo, l'altro era quadrato, quindi no, c'era qualcosa che andava approfondito. Senti Simona, torniamo a questa avventura-disavventura della quale hai parlato in apertura del tuo racconto. Quali siano stati i tuoi compagni di viaggio? In qualche modo ce l'hai detto, cioè la rete familiare amicale è molto importante. Quali invece sono stati i tuoi compagni di viaggio sotto il profilo emotivo e del sentimento, dell'emozione? Quali emozioni hai sentito più forti durante questo percorso? Allora, se parliamo di emozioni ti devo confidare che all'inizio mi sono disperata tanto e ho pianto tanto, poi mi sono spaventata ancora di più e ho avuto bisogno di mille rassicurazioni, poi mi sono arrabbiata perché ho detto, ma perché è proprio a me? E poi, insomma, ho fatto un po' pace con tutti questi aspetti. Da brava psicologa io non posso predicare bene e razzolare male, mi sono fatta seguire anche da un punto di vista psicologico perché per una donna che affronta un iter del genere c'è bisogno proprio di un posto dove andare a metterle queste emozioni quindi il mio invito sicuramente è non solo di fare prevenzione ma a tutte le persone che stanno vivendo un iter di questo genere di diagnosi, di cura, qualunque che sia, di non avere paura di andarne a parlarne con uno specialista perché ci aiuta semplicemente a risolvere e a riprendere poi con più serenità la vita dopo. Qual è secondo te da esperta innanzitutto perché anche tu sei psicologa e da protagonista perché l'hai vissuto in prima persona quel click che magari ha anche la terapia e il confronto con un professionista che aiuta a far sì che accada e che consente che da quei sentimenti iniziali anche un po' di disperazione si possa ad un certo punto invece trovare quel coraggio e quella determinazione nel combattere. Sì, io ti devo dire che sotto questo punto di vista faccio poco testo perché sono un po' un caterpillar e infatti nel mio libro c'è scritto io durante tutto l'iter non mi sono fatta mancare niente sono andata dappertutto, ne ho combinate di tutti i colori e quindi questo mi ha sicuramente aiutato a tenere il quotidiano sicuramente qualcosa che aiuta per tante donne, per tante persone potrebbe non essere così e anche questo ci sta, è normale io anche nello scrivere il libro mi sono sicuramente aiutata perché poi ad un certo punto quando riesci a raccontarlo a raccontarlo con serenità, trovando le giuste parole facendoci un sorriso e anche ridendoci su perché i momenti da ridere ci sono direi ecco che lì è scattato il click ecco se ne può parlare quindi è qualcosa che dentro di te ha un senso, un significato e va bene così. Abbiamo purtroppo gli ultimi 2-3 minuti a disposizione e voleranno ma voglio farti quest'ultima domanda quando hai deciso di scrivere il libro credo, immaginando anche che questa esperienza fosse importante nel progetto della condivisione con gli altri donne e uomini perché poi alla fine le donne certo sono in maggioranza vittime di tumore al seno ma poi gli uomini stanno a loro vicine quindi riguarda tutti Assolutamente sì, vera, verissima questa cosa io all'inizio non ne volevo sentir parlare di scrivere un libro su questa cosa volevo andare avanti a scrivere io ho scritto un giallo stavo scrivendo il proseguo volevo fare tutt'altro poi però quando mi sono avventurata nel percorso delle chemioterapie mi sono resa conto che avevo bisogno di fare delle letture a tema quindi ho cominciato a cercare libri ho letto Wondi ho letto tanti libri importanti su questo argomento e questo mi faceva sentire più serena parte di un mondo che c'era, che esisteva e a cui era importante dare voce quindi da lì ad un certo punto mi sono sbloccata ho detto, beh, ma non puoi non scrivere di questo e quindi sono partita per partire senti Simona, io sto approfittando clamorosamente di te quindi insomma lo dico queste ultime battute e vorrei che le commentassi tu mentre la regia ci manda in sovraimpressione la locandina della Lilt alla quale vi potete rivolgere ovviamente alla sede con i numeri di riferimento per fissare un appuntamento per la prevenzione ecco, mentre passano Simona di tu un messaggio a chi ci sta ascoltando proprio perché la prevenzione del tumore al seno sia ben impressa come priorità assoluta in tutte le donne sì, assolutamente allora bisogna e si deve volersi bene il tumore al seno purtroppo è un aspetto che ci riguarda sempre di più sempre di più ci si ammala ma anche sempre di più si guarisce e la guarigione sta nella tempestività della diagnosi quindi non dobbiamo avere paura approfittiamo delle occasioni che le strutture ci danno l'Ilt per esempio il 31 di ottobre fa visite senologiche gratuite l'Iltcomo in particolare quindi telefonate, prenotate mobilitiamoci tutti perché la prevenzione salva davvero la vita che bello, che bello Simona io ti ringrazio sei stata un contributo un ospite straordinario ma noi ci rivedremo perché così lo anticipiamo perché tu hai detto poco fa io scrivo altre cose faccio il disco c'è un gruppetto insieme a te avete scritto un'altra cosa molto bella e quindi tutte con le mascherine la prossima volta a meno che non siate in collegamenti separati sarete nuovamente miei ospiti se lo vorrete per parlare invece di quest'altro libro va bene? Volentieri volentieri Bene, io saluto e ringrazio Simona Bernardo un abbraccio grande grande alla prossima Grazie, grazie a te grazie a tutti e buonasera Grazie Grazie a voi rimanete lì tra pochissimo torniamo in studio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti